Il bambino svizzero E io faccio Guglielmo a te, eh? Dai, fermo Portalo via Non so che farmene Phil! Philippe! Beh, ciao, eh? Vieni, ciao! Siamo un'altra volta Ridi, ridi Lui non lo capisce mica che c'è sotto qualcosa Arrivederci, grazie della visita, eh? Arrivederci Sei n'è sta razza in fretta, eh? C'è sotto qualcosa Non si capisce Mi aiuti a portalo dentro? Sì Di chi è? Era di mio fratello Cosa faceva? Grazie 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 Grazie.